Una full immersion di tre giorni tra natura, enogastronomia e sport. La seconda edizione di Art Bike & Run Plus Wine si è aperta ieri mattina lungo la Via Verde nell'area dell'ex stazione ferroviaria a Fossacesia Marina. Qui è stato allestito un vero e proprio villaggio con espositori e sponsor a disposizione di visitatori e turisti, tante le proposte da scegliere. Prima dell'inaugurazione la pacifica invasione di circa 400 ragazze e ragazzi delle scuole elementari in media di Fossacesia Urtona che hanno aderito al progetto Trabocchi Life legato alla campagna di legambiente per la più grande pulizia delle spiagge del Mediterraneo. Quindi il taglio del nastro che ha dato il via ufficiale. In questa prima giornata nell'area talk del villaggio il focus si è concentrato sul cicloturismo, settore in forte espansione che trova in Abruzzo un territorio imprenditoriale pronto ad accoglierlo. Sentiamo Sebastiano Venneri. Il cicloturismo ha smesso di essere una nicchia di mercato come era un tempo ed è diventato un segmento importante del mercato turistico. Pensate che nel 2023 ha superato addirittura il numero di presenze quello che era successo nel 2019, prima della pandemia. E quindi siamo arrivati a 57 milioni di presenze per un giro d'affari intorno ai 5,5 miliardi che significa quasi il 7% del movimento turistico generale nel nostro paese. Quindi non è più una nicchia di mercato, è una realtà vera, importante che soprattutto in Abruzzo sta conoscendo una nuova primavera. Roberto Di Vincenzo, presidente Gall, Costa dei Trabocchi, si sofferma sull'importantissimo gioco di squadra. Queste manifestazioni poi non si fanno mai da soli, funzionano, noi stiamo con Legambiente che è il promotore dell'iniziativa, ma poi con la Camera di Commercio che da sempre ci accompagna, Unicredit che anch'esso ci accompagna, Citra, Metamer, abbiamo tanti soggetti che assieme a noi credono in questa iniziativa e la stanno portando avanti con forza negli anni. Quest'anno è un anno in cui è cresciuta significativamente, ma sappiamo già che crescerà tantissimo ancora nei prossimi tempi, perché stiamo entrando nel panorama nazionale e abbiamo avviato anche la realizzazione di pacchetti turistici per i tre giorni a livello internazionale.